4 ottobre 1720 nasce Giovanni Battista Piranesi, architetto e incisore. Ventenne accompagna l'ambasciatore veneziano a Roma, che da allora diventa la sua città da adozione. Protetto dal pontefice Clemente XIII, ben presto inserito nel mondo degli artisti, disegna le rovine della città eterna con la sua tecnica personale fatta di prospettive inventate e incise in chiaroscuro. Fra le sue opere più celebri, la serie di incisioni carcere di invenzioni e i lavori sul colle dell'Aventino. Nel luogo, il cui sottosuolo ospitava i resti dei cavalieri che difendevano il santo sepolcro, Piranesi costruisce la chiesa di Santa Maria del Priorato, tracciando il perimetro della piazza, da lui ornata di basso rilievi, muore nel 1778. Già nella sua prima serie di Acqueforti, eseguita a 22 anni, la prigione è presente. La serie si intitola infatti Tetra Prigione con strumenti di tortura per i criminali. Paragonandola alle carceri posteriori, questa appare relativamente blanda, ma sono già evidenti l'oppressiva ciclopica architettura e i simboli ricorrenti della frustrazione, le griglie e i misteriosi cunicoli. Tre anni dopo, le carceri diventano allucinanti e metafisiche in quella straordinaria serie di Acqueforti denominata Carceri di Invenzione.